Il libro che presento oggi, Legal Design, come il design può semplificare il diritto, che ho scritto insieme a Marco Imperiale, Head of Innovation di LCA Studio Legale, è il frutto di tanti anni di esperienza pratica nel mondo del legal design. È un libro quindi concreto, che abbiamo voluto ricco di esempi, non solo nostri, ma anche di tanti amici legal designer italiani e stranieri. Lo scopo non è solo quello di mostrare il risultato finale dell'opera del legal design, ma è anche e soprattutto quello di far comprendere il metodo, il processo attraverso il quale si arriva a quel risultato finale e al contempo dimostrare che il legal design non è il legal più grafica, anche se il linguaggio visuale ha un ruolo importante nelle opere di legal design. Sappiamo però che la combinazione tra immagine e scrittura non è nuova. Bellissime opere medievali, di cui peraltro il libro dà conto, hanno portato questo binomio a dei livelli di assoluta eccellenza. Ciò che invece è nuovo e che caratterizza il legal design è la combinazione fra legal e design, cioè processo di creazione, o meglio di co-creazione, attraverso il quale si riesce ad ottenere un prodotto, non necessariamente un documento, può essere anche ad esempio un prodotto di tipo digitale, che al tempo stesso dal punto di vista contenutistico estremamente preciso e rigoroso, è fresco e semplice e comprensibile nella forma ed è soprattutto rispondente ai bisogni e alle esigenze dei suoi destinatari. Siamo infatti convinti che il compito del giurista non sia soltanto quello di calare il diritto nel caso concreto, ma quello di applicarlo alle persone direttamente interessate da quel caso concreto, che possono essere destinatari di una norma di legge, di una clausola contrattuale, della previsione di una policy aziendale, ma anche di un'argomentazione giuridica, di una sentenza o di un atto giudiziario. È quello che si chiama l'approccio proattivo al diritto, che si concentra sul modo in cui il diritto viene percepito e usato in una data comunità e mira a rendere i cittadini, gli utenti, i clienti, in generale interlocutori, responsabili e consapevoli dei propri diritti e dei propri obblighi. Dicevo che il libro è ricco di esempi tratti dalla vita reale, mi fa piacere ricordare in particolare la riscrittura del contratto di ospitalità della Fondazione Sandra Bruni e Denea Mattei di Pavia, che gestisce il collegio nuovo, collegio universitario di merito. Il collegio e la fondazione avevano già un contratto di ospitalità molto tradizionale, di sei pagine con un allegato, noi lo abbiamo completamente riscritto, pensando al tipo di utenza a cui si rivolge, studentesse universitarie, per alcune delle quali il contratto di ospitalità è il primo contratto che sottoscrivono nella loro vita. Ne è risultato un testo dal contenuto perfettamente valido, nulla dei contenuti originari si è perso, ma molto fresco nella sua forma espressiva, che ha avuto poi un'accoglienza entusiastica. Credo che questo libro possa essere un valido aiuto per tutti quei giuristi che vogliono rendere il diritto più vicino al diretto destinatario nell'ottica della sostenibilità e dell'inclusione. Grazie.